Luce e gas, le famiglie faticano sempre di più a pagare le bollette energetiche. Solo a Padova sono 39.000 le famiglie in povertà energetica. In Veneto la frequenza di povertà energetica oscilla addirittura tra il 6 e il 10%. A conti fatti si tratta di un totale compreso tra 125.000 e 208.000 famiglie che si trovano nell'impossibilità di assicurare nelle proprie case riscaldamento, illuminazione, utilizzo di elettrodomestici. Le province più a rischio sono Padova e Verona, seguono Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo e infine Belluno. Grazie al contributo in Parlamento, spiega il senatore De Poli e alle battaglie che con tenacia sono state portate avanti in questi mesi, siamo riusciti a ottenere primi importanti risultati. Sulla questione torna a far sentire la sua voce dunque il senatore De Poli con una proposta di riforma fiscale generale sulle bollette di luce e gas affinché si taglino in maniera strutturale e non una tantum gli oneri fiscali. I dati della CGA di Mestre sulla povertà energetica sono allarmanti. Al governo chiediamo, afferma il senatore De Poli, misure più incisive rispetto a quelle messe finora in campo. Dopo due anni di pandemia a frenare le prospettive di ripresa ci sono le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina con la corsa dei rincari e con lo shock energetico. Molte famiglie, spiega il senatore, si trovano costrette o a rimandare una visita medica o un esame in ospedale pur di pagare le bollette o ancora sono costretti a rinunciare ai beni di prima necessità. C'è una crisi di liquidità che sta colpendo il ceto medio e questo deve preoccuparci in quanto se si ferma il ceto medio si ferma il motore del tessuto socio-economico. Dice ancora De Poli, noi siamo favorevoli a uno scostamento di bilancio ovvero fare debito buono per aiutare famiglie e imprese.